Penso che questo sia il gol più bello che ho fatto con la maglia dell'Inter, c'è stato uno scambio Gans-Sartor, Sartor arriva sul fondo, mette questa palla forte, molto alta, io devo cambiare la postura per potermi coordinare e andarla a prendere in cielo. Gran cross di Sartor che alla fine raggiunge Morriero che da tempo si era smarcato, gran coordinazione, palla sotto l'incrocio dei pali lì dove Corombeuf non può arrivare, merita ancora un altro replay questo gol? Per gol le sensazioni sono state incredibili, primo perché avevo fatto gol con la maglia dell'Inter, secondo perché avevo fatto un gol stupendo, ricordo l'abbraccio dei compagni, il gesto dello shusha, ricordo la gente che era impazzita per questo gesto tecnico, fa piacere che venga ricordato questo gol, nella mia mente sicuramente è un ricordo indelebile e mi auguro che venga ricordato ancora per tantissimi anni.